buongiorno a tutti allora proseguiamo con le bollettine e le mie schidinazze come sono andate abbiamo parlato del campionato spagnolo veniamo al campionato inglese come è andato il campionato inglese stasera ho visto anche adersfield fulham una partita ad una noia pazzesca l'unica emozione è stato il gol annullato a shurley se non sbaglio probabilmente per fuorigioco e quindi una tristezza guardate 1 a 0 gol di testa su un cross dalla fascia nulla di eccezionale poi a qualche occasioncina ma niente di che una noia proprio con tutte le partite che potevano fare per il monday night mi fanno quella partita lì di gomma che veramente una sera che sono a casa che non esco va bene ma bando alle ciance vediamo come è andata la schedinazza del gigione con il campionato inglese partendo da born ma for manchester united avevo messo il 2 e l'ho presa perché all'uno lo united ha vinto 2 a 1 carliff city leicester avevo giocato avevo detto 2 finita 1 a 0 per leicester quindi giusta everton brighton 1 fisso finita 3 a 1 quindi presa newcastle walford avevo messo l'uno isse finita 1 a 0 presa incredibile ma vero ne sto prendendo tutte westen barley avevo messo l'uno fisso finita 4 a 2 presa arsenal liverpool x2 è finita 1 a 1 presa volverenton tottenham avevo messo il 2 finita 2 a 3 ha vinto il tottenham 3 a 2 si stava facendo rimontare erano 3 a 0 al 60 sessantunesimo è finita 2 a 3 il pare il due secondo gol è arrivato all'ottantesimo e quindi il povero portierino della loris era lì che se la stava facendo sotto di finire 3 a 3 un'altra volta poi proseguiamo manchester city so tento 1 e l'ho preso perché è finito 6 a 1 celsi palace 1 ha vinto celsi 3 a 1 e adersfield fulham 1 x è finita 1 a 0 presa quindi signori incredibile ma vero la schedinazza è stata presa in pieno 10 su 10 quindi se qualcuno l'ha giocata complimenti perché ha cuccato veniamo alle bollettine come sono andate prima bollettina bonnemouth united 2 preso perché ha vinto il world united west ham si bonnemouth united 1 2 quindi ha vinto lo united avevo messo il 2 preso west ham barley avevo messo l'1 4 a 2 preso carliff city dei sester avevo messo il 2 preso ed everton breton 3 a 1 avevo messo l'1 preso quindi se qualcuno l'ha giocato si è cuccato 60 euro quindi una volta tanto il gigione ci ha preso quindi stesso discorso per l'altra schedina che pagava 15 euro e 59 borne from united x2 giusto perché comunque è finita con la vittoria dello united west ham barley 1 x è vinto il west ham 4 a 2 quindi presa carliff city dei sester x2 è finito una 0 per le sester preso everton brighton 1 fisso l'ho lasciato invariato preso quindi con 5 euro se ne prendevano 15 e 59 terza schedinazza quelli con gli over vediamo se ci siamo eh no purtroppo no allora barley united x2 più over preso carliff dei sester city is 2 più over non presa everton brighton 3 a 1 1 più over preso perché sono quattro gole west ham barley 4 a 2 1 x più over preso però purtroppo l'hover del le sester non c'è e quindi ahimè non ha funzionato stesso discorso per l'altra schedina da 208 euro avevo usato gli over due e mezzo su tutte ero andato di over due e mezzo su tutte però tre sono prese lo barley united preso il everton brighton preso il west ham barley preso ma ahimè carliff le sester è finita 0 a 1 quindi questa non è presa era da 208 euro ma in compenso però ne ho prese due da 60 e da 15 euro oltre ad aver azzeccato in pieno tutte 10 i risultati comunque pronostici della diciamo che mi mi tolgo questa piccola soddisfazione mi auguro che qualcuno abbia giocato la schedinazza magari con qualche piccolo accorgimento ma se la lasciava anche così e abbia incassato una bella cifretta perché non so quanto pagava tutte 10 le partite a zeccare la schedina gliele ho girate alla mia amica ma temo che non le abbia giocate vabbè però comunque sarà per la prossima volta se qualcuno le ha giocate sono ben contento per lui e penso che magari avendo giocato tutte le c'erano addirittura una due tre quattro cinque sei sette sette fisse tre doppie solo tre doppie e le ho prese tutte erano abbastanza scontati però le ho prese tutte bene io vi saluto vi ringrazio vado a vedere come è andata la serie b ciao